Io lo considero un avvicinamento abbastanza normale perché l'assessore Flavio Lodeghiero era da tempo che avendo altri impegni sia nazionali che internazionali aveva fatto capire la volontà di lasciare l'assessorato anche perché il sindaco è a tempo pieno, tutti gli assessori sono a tempo pieno, questa è una città importante e bisogna essere presenti tutti i giorni, io lo ringrazio per l'operato e per il sacrificio fatto quest'anno e adesso Matteo Cavaton, l'avvocato Matteo Cavaton, peraltro che ne ha anche le competenze, farà l'assessore della cultura, mentre il turismo ha voluto tenerlo direttamente io, lo curerò direttamente io.